Ciao a tutti, bentornati a RealPolitik. Le truppe di Kim Jong-il sono sbarcate. Sono sbarcate negli Stati Uniti dopo aver sottomesso gran parte dell'Asia e ora stanno combattendo il nemico statunitense di cui hanno già smontato il blocco e adesso cercheremo di togliere tutto quello che ancora hanno. Abbiamo occupato il Messico, il Canada, Haiti, Dominica e adesso andremo avanti a conquistare sempre mentre gli Stati Uniti sono... combattiamo gli Stati Uniti che saranno forse il nemico più lungo da conquistare. Stati Uniti del Centro America di cui in realtà abbiamo già delle parti. Quanto gli abbiamo dato. Jamaica intanto. Teniamo il blocco di Brasile per ultimo, eh, perché è un blocco e quindi ci vorranno un po' più di truppe. Sì, direi che bastano. E se Trinda del Tobago non è in un blocco... Dove è Trinda del Tobago? Pua! Non ne faccio più di guerre di così perché tanto sono rapidissime e diventano solo un casino da gestire. Beh, qualche truppa la Jamaica ce l'ha, eh, devo dire. Gli Stati Uniti del Centro America mi aspettavo forse qualche truppino in più. Come vanno gli Stati Uniti? Conquisto degli aeroporti. Bene. Oh, wow, con calma. Adesso. Spermazia aerea sugli Stati Uniti. Poi. Abbiamo un'operazione intensiva rapida non organizzata. È l'unica che secondo me ha qualche chance di fallire. Intensiva rapida non organizzata. Sì, qua non hanno tante truppe con tutti gli aeroporti del Tobago, però secondo me passiamo lo stesso. Uh, 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 uh. Gli Stati Uniti ci hanno tirato una bomba atomica. Sti stronzi. Allora volete veramente la guerra, bastardi. Si iniziano a tirare le atomiche e le cose cambiano un pochettino, sapete? Siamo già in guerra, cosa vuoi. Facciamo un bel calo di morale esercito intanto. E poi magari iniziamo a fare programmi unici. E pazienza se ci consumano punti azione, adesso ne abbiamo tanti. Eh, è una merda perché ci ha fatto quello di danno. Sponziare contro gli Stati Uniti. Rischiamo di non riuscire a vincere velocemente queste battaglie. Meno male che dura solo 180 giorni. Ma tanto perrete lo stesso Stati Uniti, perché fate sto casino? Possiamo riuscire a... Vediamo se riusciamo di nuovo a fare soffensiva rapida non organizzata. Tanto non hanno più carri. Secondo me sto giro ce la facciamo. Così la prossima guerra gliela ridichiariamo prima che conquistino nuovi carri. Ok. Stupidi Stati Uniti è insi di merda. Questa è della linea di rifornimento, dai. Eh, sta atomica non ci voleva proprio. Io non le sto tirando perché... No, non vittoria politica, oh. Che cazzo di vittoria politica? Ottiri in provincia. Tanto qui vi annettiamo, le vittorie politiche non servono a niente contro di voi. Guatemala... Minchia quanto costa il Guatemala. Nicaragua, 61, Costa Rica. Ma boh, mi prendo il Costa Rica, tanto per prendergli qualcosa, però. Abbiamo rubagliene una a turno. Che palle! Troppo in pace. Tieni provincia. Conferma. Troppo in pace. Tieni provincia. Conferma. Non hanno più truppe. Sono più aerei. Non si va rapido, non organizzato. Dovrebbero mollare un pochettino più in fretta. Ok, pace. Sì, però è una cosa noiosissima così. Potrebbero renderlo un pochettino più... Fattibile che quando non c'è più un vero scontro le cose finiscono un po' più in fretta. Dai. Cazzo. Andiamo ancora a fare due guerre per prenderci tutto. Vabbè, fronte sicuro. E per chiudere, offensiva rapida non organizzata. Su. Come va la guerra contro gli Stati Uniti? Perfetto. Dammi pure il Nicaragua. Che inizia a costare tantissimo. Vabbè, non hanno più truppe né carri armati né niente. Direi che non vanno da nessuna parte. Oh, benissimo. Calo di morale degli Stati Uniti. E noi tra poco dovrebbe finire anche... Beh, tra poco. Ci va ancora un attimo, in realtà. Le spie di Arabia Saudita. Maledetti. Uh, offensiva rapida non organizzata. Benissimo. Ci han tirato un'altra bomba atomica! Ma brutti bastardi! Quanto ci costa sta guerra? Ma adesso gli tiro un po' di atomica anch'io, va. Mi sono proprio rotto il cazzo. Perché fate danneggiare putazione e non mi interessa proprio nulla. Guardate cosa vi tiro io. 60 per cento, 50 e non è che abbiamo tante chance, in realtà. Proviamo. Buoni pace, intanto, ottieni provincia. Benissimo. E anche il canale di Panama è stato occupato. Qui ci sono stati che non sono. Bene, Equalora, ad esempio. Ah, perché ho segnato tutto! Cretino! Aspetta, fermi lì. Allora, sganciami... 13 ae... No, 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 contrario. 20 aerei... Un po' di carri armati... E un po' di fanteria. Ok... E ah, è passato un giorno. Aggiungi riserve. Non mi ha sganciato ancora la... I carri. Oh, segno un'operazione. Fronto sicuro. Cazzo, abbiamo pure fallito. Trattegia di combattimento. Peccato che non abbiamo più quasi navi. Eh, boh, allora adesso... Andiamo a vedere quanto costano questi programmi... di azioni ad hoc. Grande offensiva, 151 di mantenimento. Vabbè, noi la facciamo lo stesso. Ok... Pace con l'Equador. Tieni provincia. Ok... Forze armate. Vabbè, ci abbiamo della roba da parte, bene. Però mettiamole ancora. Corazzati. Pia e Reiki. Quegli stronti ce ne hanno ammazzati un botto. Sì, non mi interessa se non abbiamo più punti azione. Tanto fino a fine mese ne guadagniamo ancora 600 e poi... 160 in meno, mi sembra. Non mi ricordo, non ho più. Ho letto, ma non mi ricordo più. Altri stati liberi. C'è il Perù che ha due province. Va bene. Dichiariamo guerra. No, non abbiamo abbastanza punti azione per dichiarare guerra. Meraviglioso. Ok, la grande offensiva. Poi, nessun ripensamento. Altri 104 punti azioni in meno ogni mese. Vediamo se questo ci aiuterà un po'. Conquista delle città chiave. Mettiamo un po' gli aerei, va. Vabbè, adesso un'altra cosa, ovviamente. E ci mettiamo anche kamikaze, per non farci mancare niente. Tra l'altro vorrei far notare che siamo pronti per raggiungere i 10.000 di guerra a fondaio. Quindi adesso ci prendiamo e occupiamo di Peru e Bolivia. Tanto la Bolivia dovremmo annetterla. Perfetto. Allora, Bolivia, fronte sicuro. Peru, fronte sicuro. 9.000 puliti puliti di guerra a fondaio. Assegno un'operazione. Offensiva rapida non organizzata. Perfetto. E anche contro la Bolivia. Assegno un'operazione. Ok. Stati Uniti, terminata la guerra. Adesso. Proponi pace. Gli chiedessimo di smilitarizzare. Ma tanto loro sono già ampiamente, credo, sotto il loro limite. Quindi non ci interessa. Iniziamo a smontarli pezzettino per pezzettino. Vediamo un po' cosa possiamo rubargli. Questo. 47% più 84. Qualcosa che secondo me gli possiamo far più male. No. 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 84% è sempre il massimo che arriviamo. 103%. 83% è... Togliamo l'Alaska. Ci sarà qualcosa. 92%. Perfetto. Eh, ma prendiamolo a costo occidentale. Perché così togliamo i principali centri di guadagno. Perfetto. Vediamo un pochettino la... Uh, gli Stati Uniti sono crollati al quarto posto del PILA. Secondo adesso c'è la Germania. Eh, gli abbiamo tolto i due principali centri di controllo. Ma ovviamente non molliamo qua. Ah, scusate, ho attivato i consigli. Ovviamente non molliamo qua. Ah, hanno ritirato dentro la Polonia. Sti stronzi. Inizia. Adesso abbiamo anche kamikaze. Fronte sicuro. Perfetto. Conflitto con Bolivia e Peru sono terminati. Quello col Peru riprenderà subito. Ok. Bolivia e Peru. Negoziati di pace. Proponi pace. Perfetto. In via offerta. Accettato. Peru. Sto viaggiando assolutamente ormai senza più un senso logico se non prendere intanto. Mentre siamo in guerra con gli Stati Uniti. Prendere le province più... Che danno meno rischi. Che tanto prima o poi dovremmo prendere comunque. Perché non sono in blocchi, non sono in cose strane. Quanti gliene ho date. Cosa c'è ancora qua? L'Argentina è libero e libero anche il Paraguay. Ma noi andiamo in Paraguay intanto. Che non vorrei mai che gli Stati Uniti ci tirassero subito un'altra atomica. Ok. Prima operazione contro gli Stati Uniti è già riuscita. Avanzata frontale. Ah, tra l'altro possiamo magari fare una ricerca. Cosa gli facciamo a ricercare? Politica interna. E le forze armate. L'unica cosa che abbia un senso a far ricerca a questo punto. Però non trovo... Ah, beh, qua c'è questo, dai. Qualcosa servirà. Che fa capire quanto in questo momento mi interessi dei soldi che spendo. Consegno un'operazione. Intensiva rapida non organizzata. Perfetto, conquista delle strade. Non sono ancora riusciti a far partire neanche l'operazione di guerriglia. Credo che contro il Perù non l'abbiamo iniziato, vero? Fantastico, quando mi dimentico queste cose. Proponi pace, ottieni provincia. Paraguay, conferma. Perfetto. Argentini. Tocca a voi altri. Penso ci siano quasi più truppe a combattere l'Argentina che a combattere gli Stati Uniti. Il che la dice tutto su quanto stia organizzando questa roba. Quanto serve in questo... No, non è vero, ci sono tante truppe anche qua. Oh, wow, con calma. Peru. Pensiva rapida non organizzata. Su. Poi, Stati Uniti. Conquista degli aeroporti. Adesso andiamo ad arruolare. Intanto qualche nave. No, così abbiamo qualche navi in più. Non che abbia capito ancora bene a cosa servono le navi, ma... Nel dubbio. Di soldi ne abbiamo. Investiamo nella loro ricerca, quindi insomma. Dorsale di Mendeleev. Ah, non siamo riusciti a fare un'offensiva rapida contro il Peru. Facciamone ancora una, dai, che se non messo a giro riesce. Tentativo. Centra. Stati Uniti. Supremazia aerea. Offensiva rapida non organizzata contro di voi. Proviamo. Vediamo se riesce. Acquista delle città chiave. Garrafondaio più dieci, ma il contento è più due. O no? Ma se mi fate salire il livello di Garrafondaio sono solo contento. Però basta. Basta! Minoranza nell'esercito. Tutti i problemi tutti insieme. Perché mi sto dimenticando ogni tanto di pagare qua. 22.000, a parto in un colpo solo. Non scusa che ne guardo di 9.000 al mese. Credo che non ce la stiamo facendo. Mesopotamia. Ah, ma deve essere una regione dell'Argentina. Io ignorante non lo sapevo. Ok. Quindi, chiudiamo la guerra col Perù. Proponi pace. Mantieni provincia. Conferma. Invia offerta. Ok. Colombia. Chi sono gli stati che adesso ci stanno dietro come PIL? E invece le province più interessanti come PIL? La Cina centrale, ok. L'Arabia Saudita, l'Inghilterra meridione e Sumatra. Francia centrale, l'Inghilterra, Baviera, Francoforte, Berlino. Rio Grande do Sul. In Brasile, Brasilia, Austria. Ce ne sono ancora da prendere. Antioquia. Tu e Guyana O Suriname Cos'è partito prima è stato Suriname Via Beh ma perché Povera Guyana rimane da sola Guerra subito anche la Guyana Sì magari adesso Gli vado anche a mettere truppe Giunge riserve Assegna un'operazione Qui c'è un solo dell'affanteria Allora Guyana Suriname Colombia Argentina Stanno combattendo E qua conquista delle città chiave C'è questa brutta cosa che va Oh Ok abbiamo finito Contro l'Argentina che adesso riprenderà subito Piavera per via della nostra insaziabile sete di conquista E paesi del mondo libero Sono uniti per combattereci sotto la bandiera delle Nazioni Unite Però dobbiamo affrontare questa coalizione Che palle Modificatore attacco esercito meno 4 Quella è la cosa più scomoda di tutte No no Non avanzata frontale Rinuncia Sì Le Nazioni Unite fanno un secondo tentativo Vediamo un po' come andrà questo secondo tentativo Suriname Intensiva rapida non organizzata E la chiudiamo qua Colombia Proviamo a vedere se con loro riusciamo a fare l'offensiva rapida non organizzata Nonostante i malus che ci siamo beccati Pace con l'Argentina Ottieni provincia Terra del fuoco Oh non possiamo farlo Vabbè Facciamo così Almeno ne prendiamo due E poi tra poco vado a combattere anche il Inizia va Pronto e sicuro Appena finiamo con Argentina E cosa vado a far fuori Ok la guiana è terminata Offensiva rapida non organizzata contro Suriname E vabbè abbiamo fallito contro la Colombia Allora Chiudiamo un po' di guerra intanto Offensiva rapida non organizzata contro l'Argentina Proponi pace Ottieni provincia Conferma Quindi offerta Ok Proponi pace Ottieni provincia Conferma Riproviamo l'offensiva rapida non organizzata Anche se mi fa girare le palle Tantissimo questa storia Del fatto che ci siamo beccati anche l'attacco dell'ONU Non per l'attacco che tanto rispingeremo senza problemi Ma perché ci dà un malus Non possiamo fargli neanche calo morale esercito Che palle oh Troppo di pace Ottieni provincia Non potremmo neanche ottenere tutte e due Ci scommetto le palle Eh lei Il mazzo potame è già salita a 69 La terra del fuoco a 121 Ok Beh questa però richiudiamo in fretta Perfetto contro la Colombia Adesso andiamo a fare il primo trattato di pace Dai 64 133 69 Eh anche qua ci faranno due guerre Dai su che palle Ah perché sto cliccando sulla mia ovviamente Segno di operazione Fronto e sicuro Appena chiudiamo con Colombia e Argentina No non avanzata frontale Segno di operazione Che probabilmente finiremo insieme Tra l'altro Dai cazzo Forse Stati Uniti Dammi anche tu Offensiva rapida Non organizzata Su Poni pace Tieni provincia Ok E poi L'ultima Azione D'Argentina Intanto non hanno più neanche una truppa Ci sono messi malissimo Ok Tu Cosa mi fai fare adesso? Niente di utile Quindi per ora rimandi fermo Appena avremo un po' di puntiazione Ok Anche la Colombia E' a posto Proponi pace Ottieni provincia Antioquia Vedete che oggi stiamo già andando abbastanza lunghi Completerò questo E la prossima volta Faremo l'attacco all'ONU Uh ci siamo proprio in culo adesso Più o meno Ancora 4.000 punti Sono tanti eh So che faremo prima Ad annientarli Che a strappargli L'ultimo territorio Ridichieriamo guerra alla Colombia Per l'ultima volta Avrete notato che sto Evitando accuratamente Tutti gli stati Che sono in un blocco Perché non voglio tirarle Per le lunghe Ok Fronte sicuro Perfetto Conflitto contro l'Argentina Terminato Proponi pace Tutti in provincia Buenos Aires L'Uruguay Che mi è sfuggito Fa parte del blocco Oh no L'Uruguay E' il prossimo Ok Perfetto Poi La Colombia Grande stato di Colombia Sfondamento Dai cazzo Con questi Stati Uniti Però Devo tirargli un atomica Anch'io Ogni volta che ci troviamo A dover combattere Contro l'ONU In realtà Lo facciamo Mentre stiamo combattendo Una guerra grossa La Russia tra l'altro Non scende più Da sto punto di giù Guerra Fondaio Il clima va benissimo Per carità Però Corea contro Uruguay E allora Cosa che dobbiamo fare? Assegno un'operazione Offensiva rapida Così Completiamo gli stati liberi Dell'America del Sud Anche tu vero? Devi fare No Perché sto facendo sfondamento? Ma sì Non sfondamento Finissiva rapida Non organizzata Su Uruguay terminato Terminato con la Colombia E adesso Gli proponiamo la pace Proponi pace Tieni provincia Conferma Ok Di fronte a questo Sud America Che sta perdendo sempre più il nostro colore La prossima volta Andremo avanti a combattere gli Stati Uniti Gli tireremo una bella bomba atomica Perché mi sono rotto le palle E attaccheremo Le Nazioni Unite La coalizione Ci vediamo la prossima volta Facciamolo adesso Va così Chiudiamo Vediamo anche quante truppe Ne hanno molte meno della volta prima Si vede che gli stati stanno scomparendo Ci vediamo la prossima volta Ciao ciao Ciao